Bentornati a tutti ragazzi, sono Vernastro e siamo qui con The Order Ci siamo appena... abbiamo appena tradito l'ordine, più o meno non ho capito bene Forse no, non lo so E seguiamo la capa dei ribelli Al porto per... Capitolo 9, una fragile alleanza Beh, grazie Aspetti, signorina, c'è qualcosa qui Non ho capito cos'è Vabbè, niente di interessante E qua non si va Per ora questo titolo mi sta piacendo Un po' diverso dal solito Dai che ce la fate Come dicevo, un po' diverso dal solito Non è la solita minestra Certo, tradito Tu stai lavorando per i cattivi Bla 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 Però... C'è qualcosa di particolare che mi porta a continuare a giocarlo In continuazione Sono anche un amante del genere steampunk Quindi... Di qua Sono un po' di parte È una grafica che mi fa sbavare Però l'importante non è la grafica Sì, sì, tranquillo È un po' di parte Presto, al riparo Chi va là? Sono Galahad, salve Questa è proprietà privata No, è come temevo Mi sono perso nelle gallerie Che diavolo sei? Un altro L'andante perduto in questa città infernale pare Se mi è permesso chiedere Dove siamo? Blackwall Yard Moli delle Indie Unite Decisamente non dove pensavo Ebbene, dovrei tornare da dove sei venuto Delle gallerie? Oh, sarebbe un po' più semplice salire in strada Le pare Gira i tacchi Questo è un serio più gentile Ma potrebbe avere un leggero mal di testa più tardi? Se eri più gentile Non ti trovavi con la testa fracassata Vedo già che là c'è qualcosa Questa sta ampliando l'argine Qui c'è una leva di scambio dei binari Spera, spera, spera Cosa c'è qui? Dammi una mano No, però, spera Torna indietro Posso... Volevo spostare i binari prima Pronta Eh, vabbè Li sposteremo dopo Diavolo Il carrello è sui binari sbagliati Siamo di fottuti geni Spostiamo il carrello Prima di azionare l'interruttore Ok, sono un po' pirla, eh Però Dammi il comando Torna indietro Aspettiamo la signorina Tre quarti d'ora No, 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 no Perché ho la pistola Quella lì Brutta Schifosa E voglio Revolver Dammi una mano Pronta Dai Galahad C'avrai 120.000 anni Però Un po' di Brio Pian pianino Ancora un po' Perfetto Così Abbiamo solo messo 30.000 anni Non c'è niente qui sotto Oggetti da trovare Cose da vedere Ecco appunto Appartiene a un certo S. Lawton Ce lo portiamo a casa? Vabbè Saliamo Con molta agilità Probabilmente dobbiamo andare di lì Quindi E la famo? Tieni il passo E guarda dove metti i piedi No Di qui Di lì Non lo so Beh Non voglio andare dalla parte giusta Quindi Vediamo un po' se possiamo farci un giretto anche qui Non credo eh No Appunto Ok Sorry Non c'è nulla da vedere Ancora un saltino E siamo su Dammi la mano Muore dell'India Unita Blackwall Mi sa che semineremo il panico Ma è un'idea eh Aprirò il cancello da dentro Vieni Ti aiuto O che non puoi andarsi Nessun spuntone Presto Prima o poi una pattuglia dovrà passare di qui Sono Ancora un attimo Cecchino E chi becca ovviamente Stai al riparo Cerco di raggiungere il cecchino E passiamo Da qui Sei bloccata Non sei te che ti sei beccato un proiettile Spione Che cattivo Ok Saltiamo di là No Teniamoci la nostra Granata Granata Eh Ci prendiamo questo Anche se fa un po' schifo Non riesco a capire da dove sto Ah sto sparando da sotto Ho qualche problema Ah ok Una Non è vero Sparo a salve Sì abbiamo sparato un po' attraverso il C'è la famo Headshot No Sono un po' pippa colpo singolo Provera non ce la faccio Ah se te scusa Signorina per volta si becca Un proiettile Stai al riparo Mentre mi occupo del cecchino Mi servono rinforzi Subito Intanto due colpetti Dai Muori Prendiamoci questa Che almeno abbiamo Un po' di munizioni Che ci danno Sono granate o no Fumo Granata Granata Ci è andata bene Scendiamo Da Da dove scendiamo? Da qui? Non è vero Allora Fermi tutti Ci ho fatto Ah di qua Mi ero momentaneamente perso Non c'è nulla Non c'è nulla Munizioni Che fanno sempre bene E scendiamo Granata Vecchi code Granato Granato Cattivissima Mai quanto Revolver Ma cattiva Proviamo anche un po' con il Fucila colpo singolo Magari Non è vero Tu c'è qualcosa di interessante Munizioni Perfetto Ehm Aia Oh si è morto Veloce No Aia 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 Cur Cur Morto Morto Eh si è morti anche noi Se continuiamo così Si è morto Prendendolo nella coscia Munizioni Sì Come si dice Degli elefanti In una cristalleria Sta sparando a me Eh si che sta sparando No no Tempo da me Aia Forse Devo tenerla per lui Ed è morto anche lui Dammi il termite Dammi il termite Dammi il termite Allora Aspettati Vai così Termite Come se non ci fosse un domani Massacriamoli tutti Ah quindi possiamo anche non spararlo Ok Su di qua Eh signorina Con calma Ci sono quasi E qui Con calma circospezione Senza farci Massacrare Dammi il termite Dammi il termite Dammi il termite Niente termite Ehi Cecchino Cattivissimo Cattivissimo proprio Avanza No 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 Non farmi usare il cecchino Per favore Cattivissimo E' brutto il cecchino Coscia Testa Non la conoscete nemmeno Che gli date Della cagna Poverino Bersaglio eliminato Può essere Non simpaticissimo Dargli subito Della cagna Così Ti copro Tenete la posizione Non devono passare Ma non pensavo arrivasse qualcuno Di cattivo Da me No mi han tolto il termite Che bru Che cattivo Mi han tolto il termite Diablo C'è ancora qualcuno No Possiamo procedere Sì Aia Aia No Quick time event Panico Panico Quick time event Non stiamo molto bene Non proprio Non ti fermare Ti copro io Diavolo Aiaiaia Signorina Signorina Prova un riparo Su Attenzione Vai 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 Ehm Muoriamo qua così Granato Ehm Via 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 Lanciali in rovesciata Ora basta con le buone maniere Diamine Non mi va di scherzare Hai detto di avere una prova E dov'è Pazienza cavalieri Ci siamo quasi Sì sì tanto Stiamo solo morendo di sanguati Secondo me non ci arriviamo alla prova Cerchiamo una via d'uscita Sono d'accordo Non possiamo restare qui Mmm Cerchiamo il piano di sopra Tipo funevia Qua su c'è un'altra entrata Allora troviamo un'altra entrata Ehm Voi Svegliate questa porta Nel caso provino svegnartela Seguito signore Ehm Ma tipo Blocchiamo la No ok Non possiamo far nulla Ok Ragazzi Direi che ci possiamo salutare qui Con La vista Della Non so esattamente cos'è Ci vediamo con un prossimo video Come sempre Se vi è piaciuto il video Lasciate un mi piace Un commento E condividete Sui vostri social network Ci vediamo con un prossimo video Un saluto a tutti Da Vernastro Un saluto a tutti